E' molto interessante quando Salomone dice, dopo che l'arca dell'alleanza è stata posta nella Santa Sant'Ormo, e del fatto che pone questa domanda, ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? I cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. È costruito il Tempio, questo popolo ha fatto una cosa straordinaria, finito, compiuto, realizzato questo lavoro, Salomone fa questa considerazione che è quanto mai vera, quanto mai ovvia, quanto mai scontata, quanto mai evidente, e la fa proprio in quel momento a dire sì, ok, il Tempio è importante, è un segno però, è un segno che richiama Dio, ma non può contenere Dio, ed è in fondo quando noi comprendiamo anche nel Vangelo il fatto che i farisei un po' richiamano Gesù perché i suoi discepoli non si lavano le mani quando si mettono a tavola e non seguono le tradizioni, e stiamo attenti, qui non bisogna smontare le tradizioni, le norme e così via, questi sono dei segni, dei segni importanti, ma non è il segno in sé, è ciò che va al di là del segno, noi purtroppo ci fermiamo ai segni, non andiamo oltre, ci fermiamo al fatto che facciamo delle opere, delle modalità di preghiera, ma non andiamo oltre, ecco questo sguardo profetico tante volte manca, questo andare oltre, andare al cuore della parola, i segni sono segni, ma c'è molto di più dietro. Allora chiediamo al Signore la luce perché possiamo con cuore aperto, con cuore docile, dietro ogni segno incontrare il Signore risorto della nostra vita. Buona Missio.